La Fondazione Biscozzi Ribot dedica la propria mostra a Salvatore Sava, celebre scultore salentino tra i più significativi del panorama italiano. Un'esposizione aperta al pubblico dal 6 febbraio al 25 settembre, che permetterà di osservare oltre 30 lavori che coprono un ampio arco della produzione dell'artista. In particolare saranno presentati i cicli dei neri, la cui potenza espressiva sarà una sorpresa, sia per quanti già lo conoscono, sia per chi si accosterà senza precognizioni alla sua produzione. Una mostra fortemente voluta nel salento dal curatore Paolo Bolpanni, che ha scelto gli spazi espositivi di Piazzetta Baglivi all'interno di un palazzetto storico ristrutturato nel rispetto dell'architettura locale. Un modo per esaltare quella che sarà l'esperienza dei visitatori, che potranno essere coinvolti e affascinati non solo dalla bellezza delle opere dello scultore salentino Salvatore Sava, ma anche dal fascino del barocco leccese.